Il 2 febbraio scorso è stata costituita a Fabriano da parte di un gruppo di cittadini, l'Associazione Fabriano C'è. Gli obiettivi della neo-associazione sono principalmente la valorizzazione e la promozione delle risorse umane locali. Per realizzare i suoi obiettivi, l'Associazione Fabriano C'è ritiene essenziale avvelersi degli ambienti più suggestivi e ricchi di storia del tessuto urbano fabrianese e trasformare i preziosi spazi cittadini in palcoscenici all'aperto. Una serie di eventi organizzati per il periodo del Carnevale hanno caratterizzato le prime iniziative dell'Associazione nei giorni del 20 e 22 febbraio. Il giorno 20 febbraio alle ore 20 e 30 è stata presentata ufficialmente l'Associazione presso il ridotto del Teatro Gentile di Fabriano. Nel corso della serata si sono esibiti artisti e musicisti conosciuti nel territorio e il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.